salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video anche oggi volevo leggervi e commentare insieme a voi un post della pagina kenkashin tv di marco grastolla iscrivetevi al canale kenkashin tv che veramente vale la pena ecco questo è un post in cui viene preso in esame un grande personaggio che penso tutti noi conosciamo che è bud spencer ma la cosa interessante è che questo post è intitolato bud spencer il karateka e vediamo qui marco grastolla cosa ci dice in merito anche per capire perché ha usato tra virgolette diciamo definirlo definire bud spencer il karateka e qui dice si sa chi segue una disciplina da combattimento con passione comincia a guardare ogni cosa dal punto di vista marziale infatti c'è proprio un aneddoto che volevo raccontarvi un attimo velocemente che nel giugno del 2016 quando purtroppo bud spencer ci lasciò io gli ho condiviso un post che raffigurava bud spencer però in veste diciamo marziale e allora io ho scritto una cosa tipo ti ricorderemo sempre osu che è il nostro classico saluto no di nel karateka e un mio amico karateka che magari potrà sembrare che l'abbia fatto con intento polemico però secondo me non era questo il caso e mi ha chiesto ma scusa mi ha scritto a risposta al mio commento ha scritto scusa ma tu fai osu a tutti per dire no e allora la mia risposta fu se c'è qualcosa anche di vagamente marziale sì e lui mi rispose boh io lo faccio solo il karateka osu quindi vabbè poi dipende no però insomma chiusa parentesi questo giusto per dire ecco perché comincio a guardare ogni cosa dal punto di vista marziale questa cosa questa è una cosa che ho assorbito anche io inevitabilmente poi qui prosegue e così fin da piccolo ci dice marco ero divertito e affascinato da quel gigante buono che sul piccolo schermo faceva volare i cattivoni a suon di sberle ma in quei colpi conditi di comicità ci vedevo già tanto karate attenzione e andiamo a vedere perché non so se l'autore delle coreografie ne fosse consapevole ma persino i bersagli attenzione erano azzeccatissimi per capire meglio la cosa passiamo in rassegna alcuni dei colpi tipici del grande bud colpo di taglio tra capo e collo altro non è che uno sciuto tirato in diagonale oppure anche così no uno sciuto tirato in diagonale sul colpo per colpire all'attaccatura del trapezio oppure direttamente sulla clavicola osso piuttosto fragile che se rotto impedisce l'uso del braccio corrispondente pugno a martello sulla fronte il tetsu yuchi praticato sin da subito con il kata e yang shodan dove tu dopo il gedan barai immagini liberarti da una presa e fai questo questa è una cosa che spiego anche ai miei lievi più giovani un colpo che usa strategicamente una zona morbida della mano per colpire con forza le zone dure dell'avversario mirare alla testa poi significa creare un effetto di rimbalzo del cervello all'interno della scatola cranica con conseguente svenimento dell'avversario quindi anche perché è molto pericoloso doppia palmata alle orecchie si usa la parte della mano che i karateka chiamano teisho che è questa parte qui quindi il colpo è questo oppure anche questo anche qui il bersaglio non è affatto da trascurare in quanto nell'orecchio troviamo la sede dell'equilibrio come tutti sappiamo no un colpo di palmo in questa zona spinge violentemente l'aria all'interno fino a raggiungere il timpano che rischia addirittura anche di perforarsi questa violenta pressione provoca la perdita momentanea del senso d'equilibrio e genera confusione di un mal di testa che addirittura può durare giorni questi erano solo alcuni dei colpi che l'ex campione di nuoto sferrava nelle pellicole ma il buon senso e la saggezza del suo personaggio non finivano qui indimenticabile la scena ci dice marco in cui si ritrova a fronteggiare quattro orientali esperti nell'uso di varie lame a quel punto il nostro bud prima li distrae con un comportamento bizzarro per poi fare il gesto dell'ombrello e darsela a gambe insegnandoci e questo è importante che reagire attaccando quattro tizi armati è una cosa troppo stupida perfino per un film quindi questo era il post di kenkashin tv che volevo condividere con voi perché secondo me è veramente veramente molto interessante ringrazio anzi marco per il contributo iscrivetevi al suo canale kenkashin tv mi raccomando perché ne vale la pena e devo dire questo è un articolo molto interessante su uno dei più grandi personaggi del cinema internazionale no appunto nessuno di noi penso potrà dimenticare tutte le sue scazzottate insieme al buon amico terence hill che ancora oggi tra l'altro vediamo sugli schermi in particolare il giovedì in questo periodo non l'avessi don matteo quindi dicevo ma terence hill poi è passato da picchiatori a prete mi sembrava una cosa un po strana però comunque tornando a bud spencer appunto tutti è un personaggio che ovviamente rimane sempre nel cuore di tutti noi che ha fatto un po la storia della cinematografia questo indubbiamente poi ovviamente anche voi qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate in merito bene io ho concluso questo mio video di oggi spero vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mettete like commentate condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video arigatou goza no sta